ciao a tutti oggi è stata un'altra gara molto impegnativa un manto nervoso veramente ghiacciato e sono abbastanza contento da mia maniche anche se ho fatto un paio di errori di troppo quindi sono un pochettino dietro però diciamo che la sciata c'è quindi aspettiamo un po le prossime grazie